Siamo con Jacopo Boscarini, primo assoluto degli uomini, hai corso come un raggio perché ti ho visto passare per primo, insomma questo Memorial porta bene queste corse in Corina Maremma. Sì, non sono andato fortissimo, sono andato abbastanza tranquillo perché ho tante gare di questi periodi e ho visto che oggi c'era Matteo di marzo, potevo fare un ritmo un po' più tranquillo anche se lui è molto forte, allora ho cercato di stare il più possibile con lui e poi al sesto settimo sono andato un po' avanti, cioè da tenere un po' le gambe per altre gare, però mi sono divertito comunque tanto perché era un percorso molto allenante, molto collinare, assomiglia alla mia feniglia dove ci organizzo una gara e sono contento, mi sono divertito e anche che aveva vinto mia moglie è stata una bella cosa. Fortunatamente il tempo ha retto perché all'inizio ha cominciato a piovere, sembrava insomma non era proprio della quale. Eh sì, purtroppo oggi le previsioni sono così un po' in tutta Italia, però per fortuna ci siamo salvati e il terreno non era così impraticabile, ecco, era proprio duro per il fango, però non così tanto. Ora il prossimo evento? Il prossimo evento è a casa mia, diciamo, del Corri della Maremma e della Scarpiana di Porto Ercole, una gara a cui tengo molto e prima invece gareggerò con l'Atletica Grosseto Banca Tema e agli societari assoluti su pista sui 5.000 metri. Grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie a voi. Allora, siamo con Caterina Nostanchievic, prima assoluta delle donne, in questo Memorial Skipper che poi comunque è la settima prova di Corri della Maremma. Sì, sono molto contenta del risultato di oggi, ovviamente quando si vince fa sempre piacere, oggi è stata una gara dura perché ha piovuto, era un percorso bagnato, quindi abbiamo fatto tutti fatica a spingere un pochino tra le pigne, aghi, le pozze, non è stata facile, però l'ho gestita bene partendo piano abbastanza circa 4.20 al chilometro, il primo l'ho fatto più o meno a 4.20, poi alla fine ha aumentato, all'ultimo ho fatto circa 4.10 al chilometro, quindi sono contenta del risultato. Non ho tirato oggi al massimo perché non ho voluto tirare sempre tutte le gare, però sono molto contenta anche perché anche mio marito è venuto insieme con me, quindi mi fa sempre piacere correre insieme e sono soddisfatta oggi, grazie. Però ho visto che comunque sei partita davanti e davanti sei arrivata, non hai avuto contrasti con altre donne. Sì, 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 è andata bene, ho guardato un po' un attimino anche uomini, mi sono girata ovviamente dietro perché ci sono altre ragazze che non si sa mai, sono ovviamente a livello alto e quindi dovevo stare un pochino attenta, ogni tanto mi giravo a guardare, a controllare la situazione, ecco. Le prossime ricorse? Allora, domenica prossima penso di fare un 5.000 in pista a Grosseto, non ho mai fatto un 5.000 in pista e spero di fare un buon risultato, me lo auguro, speriamo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille.